Siamo qui con Giona Nazzaro, direttore del Locarno Film Festival. Direttore, inizio io con una domanda. I festival hanno nella storia sempre ricoperto una sorta di ruolo di punto d'incontro che potesse mettere in contatto l'industria, quindi formata dagli artisti, gli addetti ai lavori, i critici e la stampa, con il pubblico. Secondo lei è cambiato questo ruolo in virtù delle nuove modalità di fruizione del cinema che forse hanno allontanato, anche in virtù del Covid e di tutto quello che è successo, le persone dalle sale cinematografiche? Grazie per la domanda. Credo che nelle sue linee di fondo la funzione di un festival è esattamente come lo ha descritto lei. Cambierei solo l'ordine dei fattori. Credo che un festival sia soprattutto il luogo dove i film, intesi come prodotti dell'industria cinematografica e audiovisiva, incontrano un pubblico. Oggi il ruolo e l'importanza dell'industria e della riorganizzazione della filiera dell'audiovisivo ricopre un ruolo maggiore rispetto al passato. Prima il ruolo dell'industria era sostanzialmente quello della promozione dei film. Quindi oggi il festival come luogo è anche un momento dove l'industria tenta di riflettere e studiare come reinventare la propria posizione rispetto a questi cambiamenti. Il discorso è articolato. Mi limito a dire una cosa. Quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni non ha fatto esplodere cose che non c'erano. Ha semplicemente reso visibili elementi di trasformazione dell'intera filiera dell'audiovisivo che erano già all'opera. Quando all'improvviso è calato il silenzio, quello che è rimasto sono le trasformazioni. La domanda sarebbe perché l'industria non ha affrontato queste trasformazioni mentre accadevano e ha aspettato il momento più drammatico. Per un semplice motivo, per una ragione di autoconservazione. Tutti noi andiamo avanti finché possiamo andare avanti. Quando poi non si può più andare avanti ci si rimbocca alle maniche. Grazie mille. Grazie a lei. Io volevo chiederle come sono chiamati i criteri di selezione dei film in un festival che si è sempre concentrato di più su una questione più cinefila piuttosto che elitaria come invece potevano essere i festival di Cannes o di Venezia. Quindi se è cambiato qualcosa a livello proprio della concezione del film e come vengono selezionati questi film. Grazie di nuovo per la domanda. Ogni festival ha una sua linea editoriale. I festival che mi hanno sempre personalmente interessato sono quelli dove la firma della curatela intesa con la direzione artistica fosse evidente perché era l'unico modo per avere una conversazione con le persone che facevano il festival. Quindi un direttore lo si riconosceva da varie cose perché aveva delle predilezioni territoriali aveva delle passioni per degli autori o dei generi oppure in negativo però non erano esattamente i festival che frequentavo per il rifiuto di ingaggiare un dialogo con film più rischiosi. Il problema oggi è un po' questo e lo sfrontano soprattutto i festival la cui linea editoriale è molto chiara. Oggi la vera sfida non è essere fedeli a un presunto codice di purezza cinefilo. Oggi la vera sfida, a mio umilissimo avviso, è di provare a essere in discontinuità con se stessi. Cioè non andare a cercare i film che confermano quello che già sai, ma andare a cercare lì dove non sai quel che trovi. Dico questo perché ogni volta che mi sono preso io stesso in contropiede i risultati sono stati più interessanti. La sfida non è oggi quello di mantenere una presunta purezza. La sfida oggi è provare a allacciare una conversazione con quegli elementi di discontinuità che permettono di portare avanti un discorso cinematografico innovativo. La selezione come si fa per rispondere all'ultima parte della sua domanda? Litigando, tanto, ferocemente, tornando a casa molto tristi della serie Oddio, nessuno mi vuole bene, sono solo. Io che volevo essere una persona non autoritaria, rendo tutti infelici, cose di questo tipo. Grazie mille. Prego. Dunque, buonasera. L'ultima domanda che volevamo farle è più un consiglio che le chiediamo per universitari come noi che si stanno già affacciando, si affacceranno a breve nel mondo del lavoro. Riferendosi quindi a questo mondo che è affascinante ma anche molto particolare che è il mondo festivaliero, quali sono le competenze, secondo lei, necessarie oggigiorno, influenzate forse anche dai cambiamenti sociali, culturali e anche scientifici che ci stanno continuando, che continuano ad apparire e continuano a influenzare appunto il mondo moderno? O forse anche quali sono le competenze che mancano e di cui lei forse sente un po' la mancanza o vede un po' la mancanza? Ecco, grazie. Allora, in un film avenicano avrei detto mi appello al quinto emendamento perché qualunque cosa dico può incriminarmi. Per questioni vilmente anagrafiche appartengo a una generazione che ho avuto il privilegio di entrare nel cosiddetto mondo dei festival attraverso persone che questo lavoro lo hanno inventato. Nel senso che il direttore di festival esisteva anche negli anni 40 però si faceva in maniera un po' diversa. E quindi i festival moderni, così come li concepiamo, nascono in alcuni punti. In Italia sono un po'... Per esempio, per quel che mi riguarda, il momento chiave è stato avvicinarmi a Torino Cinema Giovani. Festival creato da Gianni Rondolino, dove c'era un giovanissimo Alberto Barbera, dove c'era Giulia D'Agnolo Vallan, dove c'era una buona parte di quella che sarebbe poi diventata la squadra di fuori orario, dove circolavano personaggi straordinari come Marco Melani e dove queste persone erano riuscite a creare una comunità di persone che lavoravano con dei cineasti. Quindi quando io mi sono avvicinato al festival, c'era un po' questa situazione qua che per me è stato il mio anno uno. E quindi quando mi è stato chiesto di iniziare a collaborare, non avevo delle competenze specifiche, se non che mi trovavo totalmente a mio agio in quella che in fondo era il tentativo di creare una tradizione testuale. Quello che si tentava di fare era di dire che questi cineasti sono importanti, questi cineasti fanno la differenza, questi cineasti sono quelli che probabilmente ci indicano come diventano. Oggi rimane quasi impossibile, rimane quasi difficilissimo immaginarlo, però gli ospiti si mischiavano agli accreditati, si parlava, si discuteva, era facilissimo parlare con cineasti americani, famosi e soprattutto era facilissimo fare amicizia con cineasti importantissimi come De Oliveira, perché se stava lì si andava a mangiare insieme. Quindi quella è stata un po'... Quindi torno alla sua domanda. In quel caso non erano richieste delle competenze, era più una questione di affinità. Poi sono arrivate ovviamente i corsi di cinema, dove ovviamente bisognava, e anche questa è una cosa fondamentale, dove si studia il cinema, dove si studiano le varie tradizioni testuali e critiche, e dove poi ovviamente anche lì le cose sono cambiate. Per esempio mi ricordo distintamente la premura e l'attenzione di Alberto Barbera, che sapeva chi erano le persone che erano interessate alle cose che faceva. Quindi se io per caso, per motivi di lavoro, non avevo mandato in tempo la domanda di accredito, arrivava sempre la telefona di Alberto, ma non vieni a Torino, ma non per una questione, ma perché era il senso di quella comunità che era importante, una comunità di cinema, di intenti e così via. Perché la trasmissione del sapere, soprattutto nel cinema, non può avvenire senza l'esperienza di cosa significa avere la condivisione. Quello che voglio dire è che le competenze all'epoca le si raccoglievano sul campo. Uno come Marco Melani, uno dei più grandi critici che questo paese ha avuto, uno davvero visionario, era uno che faceva la differenza, però era perché era lui. Uno come Roberto Turigliatto, è uno che ha fatto la differenza, ma perché era lui. Uno come Gianni Rondolino, che ha avuto questa intuizione visionaria di creare un'intera classe dirigente, di cui oggi per fortuna una persona come Alberto ha in mano il Festival di Venezia e si vede dove l'ha portato. Questa cosa qui è nata tutta lì, quindi la risposta è non lo so. La ringrazio. Prego.